Accogliamo ora Rogelio García Guzmán, presidente dell'associazione Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Querétaro. Negli ultimi 15 anni il lavoro di questa associazione si è basato su tre aree, ricerca, diffusione e promozione, salvaguarda del retaggio ludico antico del Messico in generale e del Querétaro in particolare. Nell'intervento il nostro ospite ci parlerà di alcuni giochi autotoni del Querétaro come la pitarra, la pittarrita, il lanzamento dei varas, il juego della hoia, la rayuela delle bote e la taba. Diamo la parola a Rogelio García Guzmán. Buonasera Toccatí, buonasera Verona, buonasera Italia. Viva Italia! Viva l'Italia! Alla Federazione Messicana dei Giochi e Sport Locali Per averci dato l'onore Di essere presenti In questo festival In questo festival De Toccatí Di Toccatí Di Toccatí E poi soprattutto Allos anfitriones E soprattutto Al comité organizzador Al comitato organizzatore E soprattutto E soprattutto Al pueblo italiano Alle persone italiane Al pueblo veronese Ai veronesi Che ha abierto sus brazos Che ci hanno accolto Che hanno aperto Le loro braccia E il loro cuore Per le manifestazioni ludiche Per le manifestazioni ludiche E culturali De mia terra Del Messico Del Messico Del Messico Bene Voy a platicarles un poco Sobre El trabajo De la associación En Querétaro E ora vi parlerò Del lavoro Dell'associazione A cui faccio capo De Querétaro Es un estado De la repubblica mexicana Querétaro E uno stato Del Messico Y vamos primeramente A platicar Sobre La pitarra E ora Iniziamo a parlare Della pitarra Bien Le damos La siguiente La pitarra Es un juego De destreza mental La pitarra E un gioco De destreza mental Que fue Encontrato Che Si si trova En La comunità De Navajas Que si trova Nella comunità Di Navajas Del municipio De El Marquez Nel comune Di El Marquez Pues como ya decía En el estado De Querétaro Nello stato Del Querétaro Coincide Con la fundación Con la fundación De la asociación De juegos Y deportes Autóctonos De Querétaro Con la Con la fundación De De la asociación De Querétaro De la asociación De Querétaro Fue precisamente En 1999 Del siglo pasado Precisamente Del 1999 Del siglo pasado En el cual Encontramos este juego che giocavano i bambini per terra e gli chiedemmo che gioco era e ci risposero che si chiamava La Pitarra iniziamo a investigare e notare tutto quello che concerneva questo gioco Posteriormente gente adulta, gente maggior si informarono che antiguamente era un gioco di pastori e campesini era un gioco di pastori e agricoltori non sappiamo esattamente se è un gioco mesoamericano alcuni dicono preispanico però stiamo verificando questa informazione del fatto che è preispanico perché il Messico non si fece prima o dopo degli spagnoli quindi ora lo definiamo Mesoamerica e è un continuum di storia, di tempo mexicana non sappiamo esattamente non sappiamo esattamente se è un gioco mesoamericano perché nel passato c'erano delle pietre molto grandi su cui erano incise e le tavole della Pitarra però conforme quando iniziò a crescere la città queste pietre furono demolite per diventare pietre mattoni per le case è l'origine pietre è l'origine pietre della Pitarra posteriormente i pastori lo seguirono jugando successivamente i pastori continuarono a giocarla ma la disegnavano sul terreno e giocavano con dei piccoli sassolini di marmolina di pietra di marmo e obsidiana e così è con questi materiali che si iniziò a giocare qui possiamo osservare il primo campionato statale di Pitarra nella città originaria della Pitarra che è Navajas Navajas di giochi e sport autotoni nella città di San Luis Potosì in San Luis Potosì che si chiama campionato nazionale che si chiama campionato nazionale di giochi di destrezza mentale nel secolo come un legato come un legame della cultura ludica mexicana qui ci sono alcune foto di questo primo evento registrato 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 del 2013 che si chiama campionato nazionale di più giocatori della ricerca di più giochi 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 questo gioco è molto semplice antiguamente i bambini tomavano un pedazzo di carrizzo un pedazzo del tamaño di sua statura e le regole sono molto semplici i bambini prendevano delle canne della grandezza di loro sì della sua statura e con questo a partire di una linea e con questa da una linea lanciavano e ganavano ovviamente il che più leggi lanciava e vinceva chi riusciva a lanciare più distante qui nella fotografia non sono barras di carrizzo in questa fotografia non sono perché ha ido perdendo spazio il carrizzo e ha ido ganando spazio l'altro materiale traído precisamente di Asia che è il bambù negli ultimi tempi il materiale con cui si lancia è cambiato e adesso si impiega il bambù che viene dall'Asia sì così è la siguiente per favore c'è un altro gioco che si chiama la raguela che consiste che consiste precisamente in rebotare una moneta che consiste nel lanciare una moneta e trattare di toccare la moneta dell'opponente e si cerca di toccare la moneta dell'avversario l'avversario di rescate alcuni di riscatto sì per esempio l'atlatl per esempio l'atlatl che è conocida come la ballesta mesoamericana che è conosciuta come la ballesta la la balestra mesoamericana sì è un gioco o un'attività ludica che anche non si pratica è un gioco o un'attività ludica che anche se non si pratica più l'associazione del mio stato l'associazione si ha dato alla tarea di investigare e rescatar ha investigato e così è riuscito a riprendere questo gioco sì altro degli eventi o dei sport che stiamo investigando è il tepos ma quagilisli è un pochino difficile di pronunciare però possiamo tradurre l'español come esgrima mesoamericana ma si può tradurre come il esgrima mesoamericana conoscita lo che si potrebbe definire anche come la lotta tra gladiatori che che consiste in un cimali o escudo che consiste in uno scudo cimali e un macuawic o espada mesoamericana e una spada mesoamericana era un bastone con hojas molto filose di obsidiana era un bastone con delle foglie di una pianta tipica non è un gioco che si gioca alcune comunità del paese non è un gioco che si gioca tuttora però fu un attività tanto guerrera ludica e molto importante è per questo che l'associazione di Queretaro sta proponendo che si abbia l'opportunità al Tepos Makuawilistli di formare parte dell'acervo ludico cultural della ricchezza ludico cultural dei nostri popoli ancestrali dei nostri popoli passati riscatti nel riscatti e soprattutto investigazione di nostri giochi antichi abri abri abriendo un paréntesis dentro di questo abriendo una piccola paréntesi all'interno di questo molti dicono che la pitarra non è mexicana o queretana molti dicono che la pitarra non è un gioco messicano per questo è che noi abbiamo signata come un'attività tradizionale ma noi la facciamo per noi fa parte dell'attività tradizionale perché qui in Italia la conosce come triglia in Italia è conosciuta come triglia tiene differenti regole ha regole differenti ma si gioca in modo molto simile alcuni dicono che è stato portato dagli europei nel Messico però si può anche pensare che anche i mesoamericani la llevarono a Europa che forse è il contrario che sono stati messicani a portarlo all'Europa quindi la conoscenza del gioco sono universali non si può dire questo è stato inventato qui perché in tutte le parti del mondo l'uomo ha sempre giocato di alcuna u altra forma in alcune o altre forme abbiamo giochi simili con più o meno parentesi però al fin e al cabo humanos con delle simili ma sempre giocati dall'uomo grazie il toccati l'associazione dei giochi e sport tradizionali per avermi dato questa opportunità grazie 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 grazie